La squadra dei Fratelli d'Italia si arricchisce di un elemento, giusto? Sì, noi siamo felici di salutare l'arrivo del dottor Enzo Gori, già comandante della Polizia Municipale di Arezzo, maestro di campo, un uomo di una grandissima professionalità in tema di sicurezza che a noi sta veramente a cuore. Sarà il nostro responsabile provinciale della sicurezza e in più si dedicherà in questa fase elettorale alle elezioni amministrative nella Valtiberina, ad Anghiari e soprattutto a Sansepolcro. Quindi un elemento in più che arricchisce la nostra comunità politica, che dimostra che Fratelli d'Italia continua ad essere un partito appetibile e in crescita. Che lei conosca il territorio non lo devo dire io ovviamente, però ecco devo dire che in materia di sicurezza davvero i tempi sono cambiati in peggio purtroppo. Sì, io ho aderito a questo partito di Fratelli d'Italia perché credo che sia ancora un partito, un partito giovane, un partito che è nato da poco e io sono cresciuto in una struttura di partito e mi trovo bene in questo partito che ha come tema principale un tema meccano che è stato argomento e oggetto della mia professione per tanto tempo, che è il problema della sicurezza. Sicurezza che non è legata solo al territorio aretino, anche se il territorio aretino forse emerge anche in negativo su questo aspetto, ma chiaramente ha ripercussioni sia sul livello regionale, nazionale, sul problema dell'emigrazione eccetera, e cercheremo di portare avanti e di sviluppare queste tematiche. In Valtiberina invece? Ma in Valtiberina io sono una persona che per tanto tempo è rimasta fuori, poi dopo Francesco e l'ha convinto e io ero convinto anche da me stesso che non si può stare in cima sempre a cantare eccetera, bisogna mettere la faccia sul territorio. Io provengo dalla base, mi piace stare sul territorio e in Valtiberina è un'esperienza che vogliamo portare avanti e io ho dato la mia disponibilità a mettere la faccia. Grazie.